Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi lunedì 11 maggio, vi ricordo che questa sera ci sarà Quarta Repubblica e vi ricordo che oggi, leggendo i giornali e per la prima volta da due mesi, che il titolo fondamentale dei giornali, della prima pagina dei giornali non riguarda più il coronavirus, anche perché sta scendendo il contagio e quindi non gli fa piacere al nostro giornale unico del virus raccontare il fatto che probabilmente tra pochi giorni il virus non ci sarà più, come qualcuno dice, non più soltanto dei maverick della scienza, ma oggi ho letto anche i locatelli, gli istituti superiori della sanità che dicono che probabilmente la seconda ondata ad esempio sarà molto più debole, quindi insomma quella verità unica del giornale del virus che ci deve mettere paura sta scemando, perciò oggi per la prima volta comunque c'è l'arrivo di Silvia Romano, ai ai ai, anzi chiamiamola con il suo nome nuovo, Aisha. Bene, ma era anche una canzone mi sembra Aisha, che tra l'altro mi piaceva moltissimo. Ora mi chiamo Aisha, andiamo prima con i fatti e poi con i commenti. Mi sono convertita all'islam. In tutte quante le pagine dei giornali si vede quella foto che io trovo orrenda, orrenda, abbiate pazienza perché confligge con il sorriso straordinario di questa ragazza, ma quel sorriso straordinario, con gli occhi straordinari felici di una ragazza che è stata rapita per 18 mesi, confligge con quella tunica islamica che è il segno dei suoi sequestratori. Questo è un dato che io vi dico a pelle, poi potete avercela con lei, dire che sbaglia e leggeremo tutti i commenti, ma io quando vedo quella tunica è come il tweet che ho fatto ieri, tremendo, se volete, Sallusti, è come, diciamo, usando appunto un paragone tremendo, è come se un ebreo che esce da un campo di concentramento tedesco si mette una mostrina della SS. Questo è quello che scrive Ieri Sallusti, è una cosa dura, forte, ma quel pugno nello stomaco che io ho avuto nel vedere scendere dall'aereo militare italiano, con la bandierina italiana, con la cultura italiana, con le libertà italiane, con la civiltà italiana, non una convertita di cui non me ne fotte assolutamente nulla, conosco tanti musulmani che non mi sembra che siano italiani quanto me, ma dopo un sequestro, beh, vedere un'italiana che dopo il sequestro arriva convertita col nome di Aisce e con quella roba lì, vi dico la verità, vi dico la verità, mi ha fatto un po' impressione, però i giornali oggi ne parlano, dicono sono stata trattata bene, dice lei, perché poi è stata interrogata per 5 ore di rossa, voglio dire, altro elemento incredibile di questa vicenda, seguitemi su questa cosa perché è un po' complicata, l'ho pensata soltanto io e non l'ho letta sui giornali quindi ve la dico, questa ragazza è andata sbattuta da una ONG che è, secondo me, quella sì, come possiamo dire, irresponsabile, da sola, in una zona pericolosa, a vivere in un modo pericoloso, in un campo pericoloso, con malattie, animali, possibili rapimenti, infatti lei è stata rapita, insomma, con tantissime situazioni di pericolo e quando torna in Italia, l'Occidente di merda, cosa fa? Le mette la mascherina, cioè una donna che è abituata a vivere a rischio 100, quando ritorna in Italia le mettono i copri scarpe, i copri scarpe, io voglio sapere, il funzionario che ha deciso dell'istituto di sanità di mettere i copri scarpe a questa ragazza, perché lei non ci attacchi la malattia, la donna che è stata rapita, che viveva il rischio mille, la donna che avrebbe preso mille malattie, però quando si torna nella nostra ipocrita cultura occidentale ci vuole la mascherina, si dirà per proteggere gli altri, e poi i rossi, e poi i 14 giorni di quarantena, ma questi sono piccoli dettagli che forse non interessano nessuno, ma che a me mi hanno fatto molto pensare, la mascherina, la veste islamica e la donna che viene rapita in Kenya, c'è qualche cosa che in queste tre cose, voglio dire, stona, stona, perché qualcuno dovrebbe svegliarsi e fare toc toc, mi svegliate da questo sogno, una donna che rischia la vita e l'ha rischiata, poi dopo è protetta ipocritamente da una mascherina dell'Occidente, ma comunque la conversione, dice, Aisha è stata spontanea, dice, Guido Olimpo oggi in un pezzo sul Corriere della Sera ci spiega che cosa succede in questi casi, perché l'altro grande elemento è quello del riscatto pagato, che pare sia certo, perché la stessa Silvia Romano dice che questi volevano i soldi. Beh, Guido Olimpo dice che è difficile trattare con questi terroristi, terroristi, lei non è che è stata rapita dall'andrangheta, dalla Sacra Corona Unita, dai mafiosi o dall'anonima sequestri sarda, per cui in Italia sia una legge per cui non si pagano i riscatti a coloro e motivo per il quale oggi ci ricorda Nordio sono state cancellati i rapimenti, no, quando si tratta di terroristi islamici non li paghiamo. Ma dice anche Guido Olimpo, state attenti perché i francesi, sempre in quella zona, nel 2014 provarono a fare un blitz per due loro rapiti, beh, morì sia l'ostaggio, sia due uomini della sicurezza francese, insieme a un bel numero di somali. Repubblica dice che Silvia è stata tradita, insomma un piccolo dettaglio che mi sembra ininfluente oggi nel titolo di Repubblica, perché è evidente che qualcuno nel villaggio in cui si trovava ad aiutare i bambini l'ha tradita, l'ha tradita e gli ha detto venite a prendervela, ha fatto due chilometri, l'hanno messa su una moto, una di queste due moto si è rotta, è finita in Somalia dal Kenya, è stata tenuta per 18 mesi in sei diversi covi, gli hanno dato un pezzo di carta dove poter scrivere, insomma non è stata trattata male, però io non augurerei a mia figlia e neanche a voi di essere trattati così, quindi non possiamo metterci nei palli di Silvia Romano e della sua conversione all'Islam. Lei ha chiesto mi date un Corano, gli hanno dato un Corano tradotto in italiano che evidentemente in Somalia è ancora presente. Non voglio entrare nel merito di Silvia, ma voglio entrare nel merito di Aiscia e su questo devo dire che Sallusti è più dure di tutti, il titolo è Islamica e Felice, è l'unico giornale che si arrende un po' con lei, proprio con Aiscia o Silvia, dice Silvia, l'ingrata torna in Italia con la divisa di coloro che l'hanno rapita con la divisa giadista. Quello velo esibito, dice Sallusti, è un insulto. Quel velo esibito, dice Sallusti, è un insulto. Devo dire che tutti hanno un po' di imbarazzo, lo stesso Romagnoli oggi su Repubblica, dice una cosa molto interessante, cioè che è diventata in realtà è una tragedia che è molto difficile da cogliere perché dice dopo 18 mesi nelle condizioni in cui si è trovata Silvia, insomma il meccanismo di conversione è anche un meccanismo di difesa. Però dall'altra parte c'è Sallusti che dice vabbè ma queste campane che suonano a festa delle nostre chiese cattoliche quando torna la convertita, insomma mi fanno pensare che stiamo un po' perdendo la testa, dice e come si dice Sallusti. L'altra questione fondamentale la pone oggi in 20 righe il presidente dell'associazione dei cooperanti, si poteva sviluppare magari un po' di più, per esempio di padre dall'olio come dice la famiglia Saggio non si sa nulla perché ce ne sono tanti altri che sono rapiti ma questo l'ha detto il ministro Di Maio, non si manda, dice il presidente dei cooperanti oggi al Corriere della Sera non si manda una ragazza da sola e per di più in una zona così a rischio. Cioè c'è un tema anche di incapacità dell'ONG, questo lo coglie anche Nordio che dice va bene tutto, paghiamo i riscatti perché abbiamo un atteggiamento diverso agli inglesi ed americani, però insomma le ONG si devono prendere una certa responsabilità. Il gruppo fondamentalista che rapisce comunque questa ragazza e che diventa Aisha e Al-Shabaab che è una fazione di Al-Qaeda, è una fazione di Al-Qaeda, noi abbiamo dato 4 milioni ad Al-Qaeda e agisce in Kenya e in Somalia e qui entra Piero del Re di Repubblica che fa un pezzo, in realtà un fondo del giornale che però è assolutamente condivisibile, ve ne leggo alcuni pezzi, Al-Shabaab oltre ai soldi ha avuto un doppio successo, il successo è inaspettato ed è più inaspettato di tutti dice Piero del Re, qual è questo secondo successo? È stata la conversione, cioè ora appaiono questi di Al-Shabaab come dei carcerieri compassionevoli, questi sono dei terroristi, uccidono, straziano, tagliano le teste, le gole e questi adesso compaiono come dei carcerieri buoni che hanno convertito, non sono neanche loro, è l'Islam che ha fatto il suo grandissimo dono ad Al-Shabaab. In questo voglio dire Piero del Re dice questa è la seconda grande successo di questo gruppo terroristico oltre ad aver preso 4 milioni di euro che utilizzerà ovviamente per fare i suoi attentati perché è il suo statuto fondamentale. Direi che su questo è tutto perché ci sarà tantissimo ancora da parlare però il punto fondamentale è il rispetto per una ragazza che ha vissuto delle cose che noi non possiamo immaginare, il rispetto per una famiglia che ha sofferto quello che ha sofferto però anche il simbolo indipendentemente dalle questioni personali di una grande sconfitta della nostra cultura occidentale che l'unica cosa che sa fare è mettere una mascherina intorno a una faccia e un sorriso di una ragazza che è completamente oggi soggiogata a questa idea di una donna velata dal mio punto di vista che non ha nulla a che vedere con la fede islamica che è legittima ed è straordinariamente ricca di conseguenze ma è il simbolo di quello che è avvenuto ieri sera che è orribile e in questo simbolo qualcuno oggi commentava anche la ridicola presenza e passarella di Di Maio e di chi è che lo diceva e di Conte con Conte che lo diceva secondo me Romagnoli e no 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 diceva qualcun altro ve la voglio segnare cioè che Conte che fa il fenomeno che fa il tweet per bruciare e beccare qualche minuto di popolarità in più rispetto a Di Maio insomma la tecnica Casalino ogni momento è buono anche l'arrivo di Silvio Romano per farsi qualche like in più su Facebook disgustoso non che precedentemente gli altri ministri fossero meno quando arrivò Battisti c'era Salvini che stava lì a esibire la preda di Battisti quando arrivarono le Simone o quando arrivò la sgrena ci fu sempre voglio dire questa specie di celebrazione de che abbiamo pagato 4 milioni per dare dei soldi ai terroristi cosa che nel frattempo in Italia non facciamo per tante famiglie italiane che sono state rapite ma vabbè perché le famiglie italiane rapite sono ricche evidentemente le cooperanti sono buone e giuste riguardo al decreto invece ritorniamo alla emergenza Covid questi non fanno altro che litigare perché oggi retroscina di tutti quanti i giornali dicono che il decreto di aprile che doveva uscire a maggio non è ancora uscito probabilmente non ci sarà neanche il consiglio dei ministri oggi perché non si stanno mettendo d'accordo su come spiega bene Daniele Manca oggi sul Corriere della Sera definire l'ombrello come dice lui si crea un ombrello sotto il quale chiunque possa sentirsi in qualche modo aiutato mance a tutti quanti 600 euro 500 euro 400 euro non capendo che l'economia non riprende a botte di mance se non aiutiamo le imprese non possiamo pensare che nei prossimi sei mesi faremo cassa integrazione indero e cassa integrazione ordinaria che ci costa 14 miliardi di euro al mese questi 14 miliardi di euro al mese se le imprese non lavorano chi cavolo li dà ai nostri rappresentanti chi pagherà i nuovi assunti che prevede il decreto nella sanità chi pagherà i nuovi professori che prevede il nuovo il vecchio decreto di aprile se non le imprese a forza di cassa integrazione lo stato entra nelle imprese che poi dovrebbero lavorare ragazzi questo è un governo che è un disastro non per il disastro con cui ha gestito l'energia l'emergenza diciamo sanitaria prima sottovalutandola e poi rendendo il lockdown più duro del mondo ma per come sta affrontando in maniera assurda l'emergenza economica cosa che urdavo da mesi oggi ha ragione benissimo ed è uno dei simboli beppe sala è uno dei simboli secondo me di questa vicenda e lo racconta bel pietro sulla verità perché dice io ho un ristoratore immigrato che è venuto in italia cercato di aprire probabilmente per asporto il suo bar gli hanno fatto la multa ha buttato via 3.000 euro di materiale di marmellate di impasti di zucchero perché non poteva ovviamente aprire e poi mi devo sentire il sindaco sale che dice sono incazzato perché c'è la gente che va sui navigli no no caro sindaco sale siamo tutti incazzati perché il tuo stipendio viene pagato da noi anche se poco potresti anche prendere di più per quanto mi riguarda ma inutile che fai gli occhiolini a reggeni gli occhiolini all'arrivo di a isha gli occhiolini ai agli sceriffi che non vogliono il tuo stipendio come quello dei tuoi dipendenti come quello della forza di milano viene pagato dalle persone che come il ristoratore di bel pietro vengono da un altro paese e lavorano pochi dreadlock poche bandiere poco lgbt possono anche essere lgbt ma lavorano lavorano si inventano qualche cosa si inventano un'impresa quelli sì che sono incazzati caro sindaco sala non te perché vedi una foto ai navigli dove ti sei dimenticato di mandare vigili a controllare evidentemente ma comunque questo è il senso di questa in italia che si occupa del particolare e probabilmente non del della situazione più generale per la quale stiamo morendo stiamo morendo e ci saranno i più deboli che moriranno ancora di più sala non morirà mai non ci sarà il problema perché sala come me come tanti altri sono fortunati ma dentro vogliamo vivere in una specie di buenos aires di caracas io no ci terrei avere ancora l'italia in cui tutti cercano di essere più ricchi e di farcela ma comunque queste sono considerazioni molto personali oggi i giornali si interrogano su tutte le misure del decreto che arriveranno oggi ma quello che dice diciamo manca è la sintesi migliore in più poi c'è un'intervista di franceschini straordinaria che vi dà il senso di come franceschini che anche lui voglio dire è una brava persona sicuramente ma come ma lui veramente pensa che il turismo verrà aiutato dal credito d'imposta di 500 euro che darà al nucleo familiare che ha un ise sotto 40 mila non riesco quasi a dirlo ma non ha capito cos'è lo spirito dell'animale con cui lavorano le imprese non ha capito che i nostri alberghi hanno gente vogliono gente che mille euro le spenda a notte non ha capito che i 500 euro con l'ise fino a 40 mila non serviranno a nulla al settore alberghiero italiano non ha capito che dire nelle interviste che daremo due migliori al turismo in formula di 500 euro di credito d'imposta non serve assolutamente a nulla gli alberghi vorrebbero sapere come riaprire dove riaprire come fare la concorrenza con gli airbnb cosa vuol dire avere booking che gli prende il 30 per cento come mettere i camerieri avere dei protocolli sicuri avere gli sgravi fiscali questo serve agli alberghi non la mancetta della minchia che ti fa fare oggi un titolo dal Corriere della Sera due miliardi agli alberghi in forma di credito d'imposta ma chi se ne frega ma tu veramente pensi che arrivano e con i credito d'imposta gli ospiti al cala di volpe o a romazzino o allo splendido o anche all'albe o allo carno di roma vengono col credito d'imposta dagli la possibilità di lavorare non il credito d'imposta una mancia che non serve a nulla se non a fare un titolo su un giornale perché io lo so qual è il retropensiero dei nostri ministri gli albergatori hanno rubato negli ultimi vent'anni i ristoratori hanno rubato negli ultimi vent'anni i baristi hanno rubato negli ultimi vent'anni mettessero un po dei loro soldi finalmente restituissero un po di quello che loro hanno accumulato non rendendosi conto che non è così la storia ma purtroppo questa idea dell'italia diciamo imprenditoriale della cultura anti industriale permea tutta la nostra classe politica quasi tutta toti grandissimo presidente della liguria secondo me il migliore dei presidenti regionali in questo momento che dice due cose contro contro incontrovertibile io voglio riaprire e il 18 riapro le spiagge purtroppo ci sono i dpcm del sovrano conte ma io entro in quei limiti riesco di a fare tutto quello che voglio fare l'altra cosa che dice contro tutte le idee della destra diciamo leghista e sovranista è ragazzi questi 38 miliardi del mess se non hanno veramente condizioni prendiavoli poi sarà attaccato da tutti quanti quello che volete mi sembra un presidente regione pragmatico che è quello che ci serve cioè se avessimo ministri pragmatici oggi risolveremo meno problemi qua ci abbiamo ministri che stanno litigando oggi per come dare alla cdp come dare al ctb il patrimonio ministri che litigano pensate un po voi che ci interessa litigano sulla immigrazione sulla proposta della balla nova e nel frattempo ci abbiamo der commissari lo sapete che io di arcuri parlo tutti i giorni oggi scopro che arcuri l'ho letto sul core della sera ha fatto il bando per la richiesta di offerta dei tamponi e reagenti che entro 15 giorni arriveranno cioè noi quando sarà completamente scomparso il virus avremo arcuri che ci doterà di bandi di mascherine di minchiate di reagenti quando sarà finito tutto avremo l'applicazione immuni sarà pronta l'applicazione immuni sarà pronta quando sarà finito tutto questo è il nostro politico ultima cosa vorrei ricordare iozzino leonardi riccia ricci rivera zilzi i cinque della scorta di aldomoro uccisi barbaramente da dalle brigatisti rossi con i quali lo stato all'epoca non trattò a differenza dei brigatisti islamisti e fondamentalisti con i quali facciamo trattativa stato è stato fondamentalisti con loro lo stato non trattò anche perché come scrive bene claudio magris quella scorta noi ce la siamo dimenticata sul cuore della sera non ne parliamo mai cinque cristiani che sono stati barbaramente uccisi da i rapitori di moro e dice la cosa incredibile che quei cinque morti arrivarono prima del sesto morto di aldo moro arrivarono prima e arrivarono prima del sesto sesto morto ed è importante perché quello si significa che noi non stavamo trattando con dei sequestratori ma con dei brutali assassini e dice pure perché li abbiamo dimenticati questi cinque cadaveri sulla strada di aldo moro un grande abbraccio a tutti quanti voi stasera parleremo di silvia romano del decreto che spero arriverà e di tutto quello che la politica sta facendo a quarta repubblica 21 e 30 non potete mancare così come sul sito nicolaporro.it tantissimi commenti ciao